ciao benvenuti da c'era una stoffa sono qua per farvi vedere dei nuovi pannelli arrivati carinissimi sono i pannelli in goblin come lo volete pronunciare e quelli per realizzare cuscini zainetti borse copriforno insomma tavoagliette vi ci potete sbizzarrire sono arrivati e adesso vedrete dei nuovi pannellini con dei soggetti anche un po particolari iniziamo con i classici di frida che vi piacciono sempre tanto sia voi che a me e sono questi qua queste uno ma hanno una novità questa volta perché hanno degli inserti lurex ecco adesso faccio così per farvelo vedere questo per dire aglio gli orecchini la collana e i fiori lo vedete sul retro così lo vedete meglio che hanno il lurex questo è uno il mio preferito naturalmente è questo qui anche lei agli inserti lurex nei fiori e negli orecchini poi quando ricarico sul sito li vedete anche nel dettaglio perché vi metto anche qualche dettaglio poi lei che è sempre una versione che abbiamo avuto ma questa volta appunto ha sempre i dettagli lurex c'è la negli orecchini in oro e nella collana in argento vedete che sbrillucca anche nella collana sono bellini vero poi sono arrivati delle chicche anche a me mi fa morire da ridere tante questo è mio preferito eccolo qua è il signor scoiattolo ma saranno carini diversi soggetti ho preso perché mi facevano proprio ridere e sono bellissimi secondo me lo scoiattolo il bassotto con la racchetta da tennis che è stupendo la signora coniglio che ha fatto la torta di carote lo yorkshire con il cappello tutti incorniciati belli belli stile tudor la signora gatta la gatta lady e anche il bulldog lord e hanno tutti appunto questa cornice che li rende un po particolari sono belle anche da incornizzare tenere come quadri un pochiccio magari male famori da ridere dove sono carinissimi poi mi sono arrivati anche dei pannelli che sono un assaggio perché ce ne erano pochi ancora devono arrivare e sono questi qua con james dean guardate se non è carino arriva anche gli altri e chi mancava marilyn sembra che c'è un baffo un pelo naturalmente i pannelli in goblin sfilacciano lo sapete però noi abbiamo il trucchetto da utilizzare che è il nastro della frodenberg che va a togliere tutti gli sfilacciamenti il t20 di un nastro dritto filo che te lo va a bloccare quindi guardate anche sul nostro sito trovate anche sul canale youtube trovate il link al video e poi magari ve lo metto per vedere come si applica non da spessore ma toglie via tutto lo sfilacciamento e nel caso in cui dovete fare anche borse o qualcosa che bisogna di essere un po più rinforzato vi va anche a rinforzare la cucitura perché vi blocca appunto il filo e quindi questi sono i pannelli nuovi nuovi secondo me sono carinissimi adesso sono curiosa di sapere se vi sono piaciuti soprattutto questi qua in stile tudor aspetta che vado a riprendere il signor squiru il nostro scoiattolo stupendo ci farei una gonna con questo è troppo fantastico e li carico sullo shop naturalmente quindi vi trovate qui il negozio a c'era una soffa al cesene via della valle 224 oppure online su www.ceronastoffa.com per qualsiasi cose contattatemi su whatsapp 339 48 27 246 sono sempre a vostra disposizione e un bacio arriva la creatività e create tutto ciò che vi passa per la testa e vi esce dalle mani a presto ciao da Vivilla ciao Grazie.